Non è una specie animale aliena, non è una novità, non è una creatura mostruosa e pericolosissima e non è un qualcosa in grado di creare eccessivo allarme. La sua presenza è solo una delle innumerevoli conseguenze del riscaldamento globale e, volenti o nolenti, dovremo imparare a conviverci. Questo il commento dell'ecologo marino Andrea Bonifazzi sul vermo cane, sempre più presente nel mar Mediterraneo, un anellide che, dopo aver conquistato il mar Ionio, sta invadendo il mar Adriatico e il mar Tirreno. L'animale, che è lungo tra i 15 e i 30 centimetri, è un vero e proprio vorace spazzino del pianeta blu, tra i suoi snack preferiti crostacei, coralli, molluschi e stelle marine. Nessun pericolo per l'essere umano però, soprattutto in occasione dell'estate. Eppure, in caso di avvistamento, i bagnanti devono fare attenzione alle sue setole urticanti capaci di irritare la pelle. Il vermo cane è solo il nuovo granchio blu per quanto riguarda l'interesse mediatico estivo, conclude il fondatore della pagina social Scienze Naturali e autore del libro 20.000 specie o quasi sotto il mare, dedicato proprio ai misteriosi abitanti degli ecosistemi sommersi.